Strade off-limits per il passaggio del Giro d'Italia ad Arezzo. All'interno del territorio comunale, la strada statale 73 e la strada regionale 71 saranno comunque liberamente transitabili, così come il raccordo semi-annullare della città da via Fratelli Rosselli fino a via Filippo Turati. In via Baldaccio-Danghiari i ciclisti percorreranno la semicarreggiata adiacente al parcheggio multipiano. Questo consentirà ai veicoli degli utenti di percorrere l'altra semicarreggiata normalmente destinata al senso opposto di marcia, in modo tale che da via Piero della Francesca e dalla rotatoria posta alla confluenza con via Petrarca e via Baldaccio-Danghiari sarà possibile raggiungere il sottopasso ferroviario che collega via Alessandro Dalborro e via Le Cittadini. Dunque l'ospedale sarà sempre raggiungibile. Oltre che da questo percorso si potrà arrivare al Sandonato attraverso la direttrice raccordo semi-annullare via Nenni. Sarà garantito il servizio nel 118 relativamente ai codici giallo e rosso e previa comunicazione alla centrale operativa della Polizia Municipale verrà assicurato il servizio di scorta con quattro motociclisti. Il casello dell'autostrada sarà raggiungibile dal centro città da Saione, quartiere non interessato dal transito della corsa, via Romana, Bivio di Olmo, Ripa dell'Olmo, San Zeno, Ponte alla Nave, raccordo il percorso. Provenendo dal Casentino, il casello potrà essere raggiunto attraverso la strada regionale 71, via Turati, via Mendola, via Don Minzoni, via Le Dante, via Romana, Ripa dell'Olmo, San Zeno, Ponte alla Nave, poi raccordo. Provenendo dalla Valtiberina, attraverso la strada 73, Bivio di Olmo, Ripa dell'Olmo, San Zeno, Ponte alla Nave, raccordo sempre in direzione autostrada. Invece i veicoli provenienti dal casello autostradale, in transito sul raccordo stesso, saranno fatti uscire all'altezza di San Giuliano e deviati in direzione di San Zeno. La strada di accesso per l'Alpe di Poti seguirà infine la direttrice via delle conserve, Pomaio, intersezione con la strada bianca dell'Alpe di Poti. Per il tradizionale mercato settimanale di Viagiotto occorrerà pazientare un giorno, visto che è stato spostato al giorno seguente, domenica 15. Le strade del percorso cittadino interessate dalla corsa resteranno chiusa al traffico dalle 13.30 fino a circa 17.30-18 a seconda dell'orario di arrivo e della media tenuta di corsa.